Sicuramente ci sarà qualche cambiamento perché comunque dei tre rientranti dovrò valutare chi far giocare perché comunque poi in questo momento abbiamo partite ravvicinate e visto che mi sono rientrati quasi tutti i giocatori ho la possibilità un pochino di ruotarli anche all'interno della partita e questo è molto importante. Devo ancora decidere la formazione perché qualcuno rimarrà fuori, dei difensori a metà campo dovrò valutare quindi domani vedremo, però non è tanto la difesa a tre, la difesa a quattro l'importante è che la squadra prosegua e migliorando la prestazione che è stata fatta sabato sotto l'aspetto difensivo, sotto l'aspetto offensivo nella gestione dei momenti della partita perché c'è stato un momento sabato, domenica, scusate, abbiamo avuto 5 minuti, 10 minuti alla fine del primo tempo dove la partita l'abbiamo spaccata perché abbiamo perso un po' di palloni, eravamo un pochino un po' troppo lunghi e su quello bisogna migliorare quindi domani bisogna dare seguito alla prestazione di domenica. Domani sera vedremo, domani sera visto che abbiamo zero punti dopo due partite bisogna cercare, bisogna vincere però questo non vuol dire andare in campo, avere fretta, avere ansia perché le partite sono lunghe l'importante è non strafare come non abbiamo fatto nella partita di Bologna quando si rincorre non è che in una partita risolviamo i problemi e risolviamo le rincorse e quindi per raggiungere la qualificazione in Champions bisogna partire da una vittoria e speriamo che sia quella di domani sera, ecco. Ma nel calcio non si sa mai, se Parigi ne perde tutti e due col Benfica non si sa mai noi bisogna lavorare su noi stessi quindi è inutile pensare alla partita di col Benfica se non battiamo il Maccabi in andata e ritorno non serve a niente quindi noi innanzitutto pensiamo a domani che poi abbiamo il campionato poi abbiamo il Maccabi e poi abbiamo il campionato quindi una cosa alla volta bisogna passare al campionato alla Champions una cosa è uguale per tutte e due, bisogna cercare di fare il risultato domani sicuramente è la partita più importante della Champions perché comunque dopo due partite abbiamo zero punti domani è una gara importante, non si sa se è la più importante perché magari la più importante potrà essere fra un mese, fra sei mesi domani è la più importante del momento perché domani è una partita da vincere la parte più importante è quella più vicina quindi domani è la più importante perché si gioca domani grazie aiutata Grazie a tutti.